Per l'acqua qui diamo ovviamente un buongiorno, ieri lo abbiamo lasciato stare dopo appunto questo dialogo notturno su come si diventa cavalli e per cui la prima domanda che ci sorge spontanea è come si diventa cavalli? Ah, saperlo, è un viaggio, è un viaggio. Noi, non lo so, Giuliano e Dio e tanti altri con questa storia effettivamente cominciamo a immaginarci un po' cavallini. Nel senso, devo dire però, di questa magia che il cavallo porta con sé. Questo cavallo ormai dovunque arriva crea qualcosa, un'immagine, un pensiero, rispolverà memorie, fa guardare avanti, denuncia soprattutto. È un cavallo che si incazza quando vede le cose e ne vede tante. Vede i manicomi giudiziari, vede i diagnosi ancora chiusi, vede le persone legate e dice ma allora che diavolo ho cavalcato per tutti questi anni per cosa? E vorrebbe andare un po' a vederli tutti questi luoghi. E sta andando, sta viaggiando tanto. Infatti un bambino oggi ha detto che l'ha visto magro. In realtà è magro perché cavalca tanto e non è il tempo di riposare. Perché di cose da vedere ce ne sono tante, anche di cose belle. È stato in terra di Camorra a far festa con quelli di Libera, con Peppe Pagano, nelle case sequestrate alla Camorra. Insomma, diventare cavalli significa forse, chissà, cercare un'autenticità che ti espone, insomma, che ti fa rischiare. I cavalli rischiano, rischiano i cavalli. Abbiamo visto. Abbiamo visto. A proposito di questo, appunto, una delle domande che mi sorge spontanea è cosa, a suo parere, si può ancora fare? Si può cambiare all'interno delle istituzioni che si occupano proprio di salute, intanto in generale e ovviamente anche di salute mentale? Ma guarda, io credo che prima di tutto dobbiamo avere una grande consapevolezza, che abbiamo fatto tanto. Ieri, come ho detto, eravamo a Gorizia perché sono passati esattamente 50 anni, questo novembre, che è cominciata questa storia. Qualcuno dice che tutto cominciò allora e da allora nulla è più stato come prima. Ecco, dobbiamo avere consapevolezza di questo, che nulla è più stato come prima. Vedere oggi questi bambini che usano la parola matto, diversità e entrano con tanta naturalezza, quasi come se fosse un gioco in questo tema, beh, vuol dire che veramente nulla è più come prima. Le persone hanno i loro diritti, è possibile curare, è possibile guarire, è possibile farcela. Per tanti giovani, voi sapete che l'età dell'insorgenza, dei disturbi mentali che poi sono più compromettenti è proprio quella della tarda adolescenza. Beh, oggi davvero noi possiamo dire che il futuro, il destino di queste persone può essere ricco di possibilità e non solo di strade già fatte, no? E dunque di appiattimenti, di istituzioni, di perdita, di mancanze, ma anche forse di arricchimenti, proprio nell'accettazione di diversità, di possibilità altre di vivere. Dunque dobbiamo avere consapevolezza di questo, che ci sono servizi dovunque, che ci sono cooperative sociali straordinariamente ricche, belle, che ci sono borse di lavoro, formazione, teatri, attività sportive. Insomma, davvero il mondo è cambiato, ecco, dall'assenza a questa cosa. Tuttavia, ecco, questa è già una cosa che bisogna fare, questa è già una cosa che bisogna fare. Costruire consapevolezza. A partire da qui poi esiste una dissociazione che è ancora intollerabile tra appunto questo che si è fatto, che si è compreso, che si è detto, tra una legge che straordinariamente, a differenza di qualsiasi altra legislazione al mondo, dà questa indicazione. Le persone con disturbo mentale sono cittadini che hanno diritto alla cura e alla salute. L'articolo 32 della Costituzione, siamo stati costretti, no, in questi ultimi anni a sapere che c'è una Costituzione, a riferirci alla Costituzione, ringraziando nonno Napolitano, che è stato bravissimo a farcelo comprendere. Però c'è una dissociazione atroce. Allora, quello che si può fare, quello che potete fare voi, quello che dovrebbero fare i giornalisti, quelli che dovrebbero fare gli opinionisti, non appiattirsi sui luoghi comuni. Eh sì, la legge Basaglia, la chiamano legge Basaglia, bella ma utopica, la realtà è un'altra. E no, dovrebbero dire, ma per quale ragione? A Padova o a Venezia, a Milano o a Bergamo? Milano, città ricchissima, ricchissima di opportunità, ci sono una quantità di persone che in questo istante sono legate in un letto di ospedale. Ma perché? E che cosa vuol dire questo? È il pazzo pericoloso? È incontenibile? O è la assoluta, come dire, no, immutabilità e rigidità di una cultura, che è un eufemismo di chiamare cultura psichiatrica, di un paradigma medico, che continua a ridurre a oggetti. Oggi i bambini ci facevano capire che bisogna guardarsi negli occhi, che bisogna scoprire che dentro a un comportamento c'è una diversità che forse possiamo comprendere. Ma perché la medicina questo non comprende? Perché ancora una volta le istituzioni sono tutte dentro le regole, no? Come nella storia del panettiere basagliano, dove dobbiamo mangiare tutti lo stesso pane, quadrato e stampato, no? E questo, quello che possiamo fare è questo. Dopodiché c'è ancora un altro livello. Cosa fanno le amministrazioni regionali? Come si spendono i soldi? Come questi soldi si spendono per lobby, per istituti? Io adesso sono a Venezia, sono in Veneto, si spendono troppi soldi per tenere le persone in luoghi che non sono più i manicomi, tutti si affrettano a dire, ma che sono luoghi nei quali si resta per 10 anni, per 15 anni, per 20 anni. Si spendono troppi soldi per far morire le persone, piuttosto che per dare vita. Se voi pensate che si spendono dai 3.000 ai 6.000 euro al mese per tenere persone in sedicenti comunità terapeutiche, squallide, misere, dove non c'è nessuna possibilità di vita, di emancipazione, quando con 6.000 euro potresti pagare e sostenere la vita di due giovani, per dire studenti che intanto adottano un giovane, un ragazzo, parlo appunto di quello che chiamiamo i progetti individuali, i budget di salute, le possibilità, cioè di riarticolare intorno alla persona il progetto, che era il grande pensiero basagliano, l'assemblea goriziana, cosa è stato se non la possibilità finalmente di chi non aveva voce addirittura di alzare una mano e di essere contato per dire vince la mozione 24 a 17, insomma, è una cosa straordinaria. Qualcuno l'ha chiamato queste modalità di lavoro di allora che, ancora oggi, in tanti luoghi per fortuna vanno avanti, fare la riunione, fare l'assemblea, qualcuno l'ha chiamato come la democrazia a colazione, no? La mattina facciamo colazione a democrazia. Ecco, bisogna ricominciare ad avere la democrazia a colazione, a pranzo, a cena, io dico, e dunque mettere al centro le persone. Questo è quello che dobbiamo fare. Ecco, tra l'altro, quando lei parla, ovviamente mi viene in mente anche tutto il racconto che è stato fatto ieri sera, proprio sulla nascita anche, diciamo, dell'equip di Basaglia, no? E ovviamente mi viene in mente anche un problema di welfare sociale, mi viene in mente che ci sono tagli incredibili al sociale e anche agli operatori che lavorano in queste comunità, in queste strutture, non solo private, ovviamente, ma anche e soprattutto quelle pubbliche, che è un problema molto grosso. Una volta Basaglia invitava, addirittura lei non era laureato, quando è stato chiamato, invece in questo momento c'è, come dire, un surplus di richiesta di giovani che hanno voglia di spendersi e lavorare nel sociale, ma non ci sono soldi. Ma io, è evidente che io ritengo di essere molto fortunato, è la mia generazione, in un modo o nell'altro. Noi siamo stati giovani alla fine degli anni Sessanta e abbiamo avuto delle possibilità nei primi anni Settanta. È stato straordinario quel periodo, durissimo, difficile, ma straordinario, ricco di dialettica, di alternative, di libertà, di parole che avevano un peso e si poteva stare notte intere. Ecco, quando il cavallo doveva uscire abbiamo discusso una notte intera, se doveva uscire o no, che significato poteva avere. Però ecco, questa storia dei tagli è ancora una volta un punto importante, perché noi oggi, insomma, quando non abbiamo soldi, possiamo anche inventare una buona vita, possiamo anche costruire nelle relazioni, nelle motivazioni, nel piacere di lavorare e di stare insieme. Questo significa incentivare soggettività e lavorare sulle relazioni. Ma quando insieme ai tagli costruiamo anche culture che non sono più in grado di mettere al centro i soggetti, sto ancora una volta parlando delle psichiatrie o delle medicalizzazioni che accadono o di tutte le forme di organizzazione sociale che non prevedono più la possibilità che ci sia uno spazio, ci sia una presenza dei cittadini. Anche oggi citiamo queste belle cose che hanno raccontato i bambini quando raccontavano di Luca e delle preoccupazioni. Le preoccupazioni della mamma sono l'unico problema che oggi le amministrazioni pubbliche cominciano ad avere. Dobbiamo essere sicuri che i soldi li abbiamo spesi secondo l'articolo 22, disposto. Dobbiamo essere sicuri, spendiamo soldi per la sicurezza, per carità, bisogna spendere soldi per la sicurezza. Ma nell'interpretazione delle norme per la sicurezza spendiamo soldi per cui se facciamo una casa di tre ragazzi che hanno un problema e che vivono insieme va tutto bene in un posto, va tutto bene in un altro posto e magari viene su in un altro posto ancora chi ha paura di queste forme di aggregazione, di queste libertà perché le lobby ne vengono colpite e dice però se sono tre matti bisogna che ci sia il bagno adeguato, le scale così, cioè significano barche di soldi da spendere e arrivano in ass e si chiude. Questo è veramente terribile. Ora se da una parte mettiamo i soldi che non ci sono o che sono meno, poi non è neanche vero che non ci sono, dipende da come si spendono, dall'altro mettiamo le culture psichiatriche che ancora una volta tendono a oggettivare, dunque più io sottraggo ai soggetti le proprie risorse più soldi devo spendere. E a questo aggiungo queste modalità di gestione del danaro pubblico e delle nostre relazioni che escludono assolutamente soggettività, motivazioni e creatività degli operatori. Lei capisce che il futuro finisce per diventare molto preoccupante. E tuttavia poi ci stanno i cavalli azzurri che corrono. La nostra speranza, naturalmente, rispetto a un futuro che troppe volte viene visto magari anche in modo ovviamente negativo rispetto a quello che si dice. Io penso che il futuro è il cavallo azzurro, insomma. Guai a noi se non continuiamo a sognare, ad avere desideri e a pensare di andare con la testa nelle nuvole. Ma sto dicendo tutte cose che mi hanno emozionato e che ho sentito stamattina dai bambini delle scuole qui di Venezia. It all comes at once.